La guerra era appena finita, la Repubblica era appena nata e gli italiani erano già davanti a un bivio. Tu da che parte stai? Con i bianchi o con i rossi? La DC o i comunisti? Domenica 18 aprile 1948, giusto 70 anni fa, fu il giorno del giudizio. E non esageriamo con questo termine, non ci sarebbe più stata una campagna elettorale così intensa e pervasiva. I toni delle parti in causa, tra cui la Chiesa Cattolica con i comitati civici di Gedda, erano a dir poco accesi. Una propaganda senza esclusione di colpi. Il nemico veniva dipinto, soprattutto nei manifesti che furono lo strumento principale, come un mostro di stupidità, o perché ha servito al Vaticano e agli americani, o perché succube di Stalin. Ma la democrazia cristiana, guidata dal Cide De Gasperi, ebbe buon gioco ad agitare l'ospetto del comunismo e a far valere la bontà del piano Marshall. Il trionfo fu senza appello, con la conquista della maggioranza assoluta dei seggi sia alla Camera che al Senato. Oltre il 48% dei voti, mentre il fronte popolare si fermò sotto il 31%. De Gasperi, che era più lungimirante di molti suoi consiglieri, anche in tonaca, non formò un monocolore democristiano, ma accoptò i partiti minori che lo avevano sostenuto nei precedenti governi, repubblicani, liberali e socialdemocratici. Ma la sapienza politica di De Gasperi fu sovrastata da chi, come il microfono di Dio padre Riccardo Lombardi, sognava un grandioso esperimento sociale cristiano. E così, il 18 aprile del 1948, nacque il mito dell'Italia cattolica, l'Italia di Don Camillo che tiene a bada Peppone, una fiction ancora viva nella testa di molti. Grazie. Grazie. Grazie.